L'Italia è pronta, noi avevamo preparato nei giorni scorsi un piano perché era evidente che questo che è accaduto potesse in qualche modo accadere, ora si tratta di attuare nel modo più efficace possibile il piano che avevamo predisposto. Questo piano ha chiaramente delle immediate scelte che noi dobbiamo compiere, sono scelte che sono anche di natura determinata, sono scelte forti che riguardano un territorio che è stato circoscritto, chiaramente l'assessore regionale ha indicato i comuni di quest'area che noi vogliamo provare a circoscrivere perché l'obiettivo essenziale che dobbiamo conseguire nelle prossime ore è esattamente circoscrivere quest'area, lavorare perché il virus possa essere trattenuto dentro una specifica area geografica. Per questa ragione stiamo lavorando, ultimando in questi minuti a una ordinanza che sarà un'ordinanza a doppia firma del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia, chiaramente con la condivisione totale del Commissario per l'emergenza coronavirus, che pure voglio ringraziare qui a fianco a me Angelo Borrelli, che metterà in campo una serie di iniziative immediatamente con l'obiettivo di circoscrivere questa epidemia. Tra queste iniziative c'è chiaramente la sospensione in quell'area di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura esse siano, la sospensione delle attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione delle attività lavorative per le imprese della zona, anche in questo caso chiaramente noi favoriamo modalità di lavoro che possano evitare la connessione diretta tra le persone, quindi quella del telelavoro ad esempio, la sospensione delle attività ludiche e sportive e la sospensione anche delle attività educative e dell'infanzia. L'ordinanza approvata stamattina fa fare un ulteriore passo in avanti, cioè noi chiediamo sostanzialmente la permanenza obbligatoria domiciliare a tutti coloro i quali provengono dalle aree colpite da questa epidemia. Io penso che ci siano tutte le condizioni perché il nostro è un servizio sanitario forte, efficiente, dentro un coordinamento istituzionale per affrontare al meglio questa vicenda.